abbiamo pochi giocatori di personalità e tanti giovani da far crescere parole musica che fino a questo momento ho voluto lasciar stare perché preferivo fare gli altri video che avete visto sul canale ma oggi ci ritroviamo qui a commentare le parole di pirlo post benevento juventus lo so lo so sono parole abbastanza cattive ma prima di iniziare one football one football perché domani sera giochiamo una partita di champions che sulla carta non ce ne frega niente ma che potrebbe diventare molto importante quindi scaricate one football e poi vi spiego anche il perché questa partita può diventare molto importante completamente gratuita applicazione da avere sul telefono tempo reale tutte le notizie per la juve fatelo e mettete un mi piace magari a questo video dato che siete sempre molto generosi con il mi piace e mi piace continuare su questa falsa riga allora perché può diventare una partita importante proprio perché è una partita inutile e voi direte luca tu sei completamente matto sei impazzito e invece no perché ho voluto fare prima il video ieri su 4 3 3 tutti avanti se non avete visto lo trovate qui sopra nelle schede perché proprio domani che è una partita che non c'entra niente che non conta nulla se non per un discorso di record legati a cristiano ronaldo un discorso di ma chissà che non passo prima nel girone ma poi devo vincere al camp no col barcellona un discorso di è questa partita vale due milioni e mezzo tre milioni di euro che sono tutte giustificazioni certo assolutamente ma che sinceramente da tifoso mi importa fino a mezzogiorno non è che mi può importare eventualmente arrivare primo nel girone poi abbiamo visto anche l'anno scorso che arrivare primo arrivare secondo è un po di tempo che lo vediamo che non conta niente perché poi si tratta di una questione di fortuna sui sorteggi quindi alla fine chi se ne frega dato che una partita che non conta niente io ci provo io ci provo a insistere con un cambio di mentalità un cambio di marcia un cambio di filosofia un cambio di mentalità e allora 4 3 3 tutti avanti o per intenderci giochiamo molto offensivi giochiamo senza paura di prendere gol giochiamo con la voglia di farle e non dico un amichevole perché vi ho appena raccontato perché non lo è però ragazzi proprio perché è una partita nella quale non hai niente da perdere io mi aspetto una juve che deve dare veramente fondo a tutte le sue energie per divertirsi domani i giocatori devono divertirsi leggeri dato che non ti giochi più il passaggio del turno in champions se hai passato se hai passato le prossime due se le vinci arrivi addirittura primo ben venga ma adesso bisogna divertirsi adesso bisogna essere veramente con la testa tranquilla bisogna far vedere cosa sia in grado di fare e proprio in queste partite puoi permetterti degli esperimenti tra l'altro ronaldo l'hai lasciato a riposo col benevento proprio per farlo giocare questa sera non mi dispiacerebbe dato che morata poi è squalificato con il torino morata ronaldo e un'altra chiesa coluseschi di bala completare un tridente e tre a centrocampo e quattro in difesa ha recuperato bonucci molto probabilmente anche demiral sta per recuperare chiellini iniziano a delinearsi tutte le cose che vi ho raccontato ieri tornano anche i centrali iniziamo a dire delite bonucci delite demiral e poi proseguiamo con questa difesa scesi in porta e questi qua quel blocco lì granitico non va più toccato cioè bisogna soltanto sostituire per necessità buffon non giochi per dieci gare di fila te ne farei una ragione chiellini demiral bonucci a seconda di chi viene scelto come titolare gli altri due state in panchina ve ne farete una ragione i difensori centrali al portiere devono essere quelli lì a meno che poi non siano stanchi e vadano fatti riposare quadrado domani sera spero che possa riposare danilo a destra la butto lì alexandro a sinistra che ha bisogno di recuperare la condizione fisica ha bisogno di mettere dei minuti nelle gambe perché se non lo fa in queste partite non lo fa mai più e poi tra centrocampisti e tre attaccanti o addirittura quattro attaccanti 4 2 4 non mi interessa voglio alzare il baricentro voglio vedere dei giocatori che in champions league la competizione per eccellenza che riguarda la personalità tirino fuori le palle perché pirlo stesso ce l'ha detto ci sono dei giovani vanno fatti crescere ci sono dei giocatori senza personalità gravissimo che lo dica l'allenatore benissimo che se ne accorga perché il fatto di dirlo tranquillamente come ha sempre fatto pirlo in conferenza stampa sembra quasi un messaggio di vabbè ho detto una roba così no no hai detto una grandissima verità e probabilmente soltanto pirlo comunque pirlo e pochi altri potranno dire con esattezza chi ha la personalità e chi no perché loro li vedono tutti i giorni in allenamento e vedono l'approccio la preparazione le partite e indici di personalità stesso io ripenso un po alle juventus che abbiamo avuto no chi era il trascendatore chi aveva personalità beh mi viene da dire primo scudetto sicuramente pirlo sicuramente buffon sicuramente bonucci sicuramente vidal poi col di poi sicuramente pepe è un giocatore che secondo me aveva molta personalità e forse pochi altri matri e vucinic non so se li metto quagliarella ha giocato poco lo stesso chiellini barzagli no chiellini probabilmente sì ce lo inserisco barzagli non lo vedo proprio giocatore leader giocatore da leader silenzioso delle due uno di quelli che difficilmente alza la voce lich steiner lich steiner assolutamente di personalità quindi iniziamo a vedere dei giocatori che la personalità ce l'hanno la juve che è arrivata in finale di champions penso a tevez penso a morata penso a pogba lo stesso marchisio che non avevo inserito nelle altre che è un giocatore che sputta sangue ha sempre sputtato sangue per la causa mi viene in mente evra quindi dei giocatori che la personalità ce l'avevano cardiff manzukic danni alves danni alves assolutamente danni alves non inserisco i guin non inserisco probabilmente nei pianici né chiedira voglio sottolineare bonucci ancora una volta perché piaccia non piaccia questo difensore di personalità ne ha da vendere il fatto di lasciare la juve dopo una finale di champions andare al milan è personalità il fatto di esultare in faccia la juve dopo tutto quello che c'è stato è personalità il fatto di ritornare la juve dopo il milan è personalità piaccia non piaccia bonucci i coglioni ce li ha e li ha sempre fatti vedere poi ripeto piaccia o non piaccia come difensore come uomo come atteggiamenti come scelte queste sono tutte altre discussioni ma la personalità bonucci ce l'ha è innegabile anche l'altro giorno quando ho azzittito quadrado per me è stata una roba bruttissima non mi piace vedere il capitano della juventus che fa una roba del genere in fronte di un compagno però è personalità per quanto mi riguarda almeno per come la vedo io di bala da quando alla fascia di capitano in questa stagione in questa stagione ha fatto vedere poca personalità quando non c'è cristiano ronaldo il re della personalità il giocatore con più personalità nella nostra rosa probabilmente c'è di bala che deve fare la differenza c'è di bala che è il 10 il capitano l'attaccante e non chiama mai un pallone per provare risolvere la partita non alza mai la voce non chiede mai ai compagni supporto non quest'anno di bala per quello che vi dico che secondo me dei problemi legati alla testa nel senso che psicologicamente magari c'è qualcosa che lo blocca ma personalità quest'anno sta peccando clamorosamente un giocatore di personalità pura matais delit matais delit è personalità altissima e poi gli altri gli altri bisogna vedere artur per dire secondo me è un giocatore che la personalità ce l'ha bisogna vedere bentancur bisogna vedere rabiot bisogna vedere chiesa bisogna vedere kuluseski morata come abbiamo detto ce l'ha ce l'ha già dimostrato sono giocatori che hanno una dimensione diversa giocatori più pronti a fare certe cose giocatori meno pronti a fare certe cose di bala in tutti questi anni con quasi 100 gol segnati con la maglia della juventus quindi sicuramente un giocatore che rimarrà impresso nella storia della juventus perché se segni 100 gol con la juve bene o male ragazzi nella storia ci entri è inutile discutere su questa cosa qua però 93 insomma va verso i 30 se non mi tira fuori adesso tutto quello che mi può dare non so quando me lo potrà fare cristiano ronaldo è cristiano ronaldo da un pezzo buffon ed era diventato buffon da un pezzo bonucci ripeto piaccia non piaccia il coglione aveva tirati fuori da un pezzo e poi adesso ne ho citati solo alcuni così su due piedi magari non me ne sono venuti in mente non mi ricordo nemmeno se ho citato manzukic prima ma sicuramente un altro di quelli che di personalità ce n'era tanta conte un altro che di personalità ce n'era tanta lo stesso allegri un altro di personalità ce n'era tanta supirlo non riesco ancora a dare un giudizio troppe poche partite viste da allenatore non so se da allenatore questa grinta questa personalità c'è mi piace il fatto che chiami tutti i passaggi questo sì però potrò darvi questo giudizio soltanto tra un anno probabilmente sarri per dire che secondo me aveva poca personalità non tantissima l'ho visto molto più grintoso fuori dalla juve ma dentro la juve l'ho visto molto calmato quasi come un animale castrato passatemi il paragone che fuori mostra gli artigli e poi dentro si adegua si arrende al fatto che minchia la juve è la juve quindi sarri l'ho visto un po' incatenato voglio vedere pirlo dove arriverà ma il fatto che vada a sottolinearmelo proprio lui stesso è tanta roba e quindi mi viene da dire ci sono dei giocatori che anche da soli possono inventarsi le giocate possono inventarsi le partite possono inventarsi le vittorie e dei giocatori che in questo momento fanno fatica è proprio per questo che vi dico morata ronaldo due giocatori che in questa stagione ci hanno fatto vedere di avere due cocones grosse così e uno tra di bala chiese kuluseschi o due tra di bala chiese kuluseschi che in questo momento ci hanno fatto vedere che insomma nella partita di cemci di domani sera che non vale niente ma proprio perché non vale niente può valere tutto fatemi sapere questo nei commenti cosa ne pensate fatemi sapere qual è secondo voi la formazione giusta per domani sera e l'approccio che volete dare a questa partita perché non può sempre essere solo un problema di mentalità non può essere sempre solo un problema di tattica e di moduli ma se le mettiamo insieme queste due cose e quindi prendiamo un po di grinto un po di personalità e un po di tattica e un po di moduli mettiamo insieme tanti problemi che abbiamo riscontrato fino adesso secondo me li risolviamo tranquillamente